Si continua a parlare dei sette operatori umanitari uccisi a Gaza dall'esercito israeliano. Cerchiamo di capire perché questa notizia è così importante e perché può essere un problema sia per i civili a Gaza ma anche per il governo Netanyahu. Parliamo anche del terremoto a Taiwan, delle novità sul caso Pfizer-Gate in cui è indagata la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, di come in Turchia Erdogan sta cercando di boicottare il successo del partito pro-curdi e infine di un incontro sul clima a Milano e di un po' di notizie dalla Liguria. Io sono Andrea degli Innocenti, oggi è il 4 aprile 2024 e questo è il nome da segno, la segna stampa ha commentato l'Italia che cambia, sigla! Ieri non ne abbiamo parlato ma martedì c'è stato l'ennesimo caso che ha scosso l'opinione pubblica legata all'invasione israeliana della striscia di Gaza. In pratica l'esercito israeliano ha ucciso in un attacco ben sette operatori della ONG World Central Kitchen che stavano distribuendo aiuti umanitari. È un fatto molto grave che continua a peggiorare la situazione di Israele a livello internazionale e la situazione dei civili a Gaza, per ovvie ragioni. Comunque partiamo come al solito ricostruendo i fatti. I sette operatori umanitari, che erano un palestinese, un'australiana, tre britannici, un polacco e un cittadino strunitense e canadese, stavano viaggiando nella città di Deir al-Balach nel centro della striscia di Gaza per preparare la consegna di una serie di aiuti umanitari da poco arrivati a Gaza, via nave, in un'operazione finanziata da vari paesi e coordinata con l'esercito israeliano. Al momento dell'attacco i sette operatori stavano gestendo i preparativi logistici per questa consegna che era una consegna molto corposa, molto importante, erano 400 tonnellate di aiuti umanitari appena arrivati dal mare, via mare, la nave che trasportava gli aiuti aveva scaricato le prime 100 tonnellate e gli operatori le stavano consegnando all'interno di un convoglio. Poi è avvenuto l'attacco israeliano. A quel punto l'ONG ha deciso di interrompere immediatamente tutte le operazioni e la nave è ripartita portandosi via buona parte del suo carico di aiuti. Ovviamente, come vi dicevo all'inizio, si tratta di un fatto molto grave perché anche nei teatri di guerra gli operatori umanitari sono in genere quelli più protetti in quanto svolgono un lavoro prezioso di aiuto verso i civili che, quasi sempre, sono quelli che delle guerre subiscono le conseguenze maggiori. Il che, fra l'altro, a Gaza vale doppio considerando che circa la metà della popolazione è composta da minorenni. Attaccare e uccidere gli operatori umanitari non è solo una tragedia umana per le persone in questione e per i loro cari perché, da quel punto di vista, uno potrebbe, tragicamente, pensare perché fa così scandalo la morte di sette persone in un contesto dove sono morte oltre 33.000 persone negli ultimi mesi dopo, appunto, il 7 ottobre di cui buona parte minorenni. Il fatto, però, è che l'uccisione di operatori umanitari diventa un enorme problema anche per i civili a Gaza che da quegli aiuti umanitari dipendono per la loro sopravvivenza perché significa creare un contesto in cui fornire aiuti umanitari non è più sicuro, è incredibilmente pericoloso si può essere attaccati deliberatamente il che vuol dire, a sua volta, che le ONG si ritirano come, appunto, ha già fatto, ad esempio, l'ONG in questione ma, come plausibilmente faranno anche altre che gli operatori stessi non se la sentono di rischiare consapevolmente la propria vita a questi livelli e così via e quindi significa centinaia di migliaia di persone che rischiano ancora più la fame di morire di malnutrizione di morire di infezioni e di non avere più nessun tipo di aiuto quindi capite che sono i preludi di una possibile catastrofe umanitaria ed è per questo che notizie come questa sono molto importanti è importante, cioè vengono molto rilanciate molto condivise e scuotono l'opinione pubblica questa volta sia il governo che l'esercito israeliani hanno ammesso la propria responsabilità sostenendo però che sia stato un incidente non volontario causato dalla mancanza di coordinamento con la ONG o da un'errata identificazione della stessa sono versioni leggermente discordanti a seconda delle fonti dell'esercito che hanno fatto le dichiarazioni ma le prime ricostruzioni in realtà che sono iniziate ad emergere nella giornata di ieri dopo lo shock iniziale smentiscono almeno parzialmente la versione dell'esercito il lavoro più dettagliato in questo caso è stato fatto da un quotidiano israeliano che si chiama Arez che mi sembra abbia fatto una ricostruzione piuttosto obiettiva dell'accaduto grazie alle fonti utilizzate che sono fonti anonime dentro l'esercito e ai servizi di intelligence israeliani quindi vediamo questa ricostruzione secondo Arez l'attacco avrebbe avuto come obiettivo iniziale un uomo armato che sarebbe stato a bordo di un camion nel convoglio di cui facevano parte anche le tre auto su cui si trovavano appunto i sette operatori uccisi uomo armato che potenzialmente forse era parte diciamo di Hamas era un miliziano di Hamas non si sa non è chiara questa cosa fatto sta che però l'attacco e questo è il particolare più strano è avvenuto dopo che il camion su cui forse c'era questa persona si era allontanato dal convoglio e ha invece bersagliato le tre auto su cui si trovavano solo gli operatori e nessun uomo armato l'attacco sarebbe stato compiuto da un drone che ha colpito appunto una ad una le auto benché tutte queste avessero ben chiari i segni identificativi della ONG e vi leggo il passaggio dell'articolo di Arez che descrive tutta la dinamica perché è interessante è un po' cruda se non volete insomma schippateli una ventina di secondi e passate al commento successivo però ve lo leggo perché è interessante per ricostruire i fatti a un certo punto mentre il convoglio stava viaggiando lungo il percorso approvato la centrale di controllo dell'unità responsabile per la sicurezza della strada ha ordinato agli operatori dei droni di attaccare una delle auto con un missile alcuni dei passeggeri sono stati visti mentre lasciavano l'auto dopo che era stata colpita e sono saliti su un'altra hanno continuato a guidare e hanno perfino inviato un messaggio alle persone responsabili per dire che erano stati attaccati ma secondi dopo un altro missile ha colpito la loro auto la terza auto del convoglio si è avvicinata i passeggeri hanno cominciato a trasferirci sopra i feriti che erano sopravvissuti al secondo attacco per portarli fuori pericolo ma poi un terzo missile li ha colpiti tutti e sette i volontari di World Central Kitchen sono morti insomma leggendo la ricostruzione della dinamica fatta dal giornale sembrerebbe proprio un attacco deliberato verso la ONG che attacco che vi darò di più mi ricorda molto da vicino quello compiuto dai soldati americani in Iraq e reso noto dal video con lateral murder rilasciato da Wikileaks con cui diciamo diventò famosa Wikileaks stessa ora come è potuto accadere una cosa del genere sempre secondo Arez il contesto in cui è avvenuta questa operazione è quello di una certa e crescente anarchia che regna nell'esercito israeliano mista ci aggiungo io a una buona dose di estremismo ideologico con tutti i comandanti che decidono da sole le proprie regole da seguire per esempio per colpire un obiettivo sensibile come potrebbe essere appunto il convoglio di una ONG un'unità dell'esercito avrebbe bisogno di un permesso specifico da ufficiali di altissimo rango mentre in questo caso non è per niente chiaro se questo permesso sia stato mai dato o perfino se sia mai stato richiesto l'esercito ha detto di aver avviato un'indagine interna per chiarire quanto accaduto anche se sappiamo che le indagini interne degli eserciti lasciano un po' il tempo che trova comunque tutto ciò sta suscitando reazioni di sdegno e rabbia crescente a livello internazionale anche perché si va a sommare a una situazione in cui già israele continua a bloccare costantemente le ONG ad esempio sta bloccando da settimane l'agenzia delle nazioni unite per il soccorso e l'occupazione dei rifugiati palestilesi la UNRWA dal portare cibo e aiuti nel nord di Gaza e quindi insomma continua con la sua politica di ostruzionismo verso ONG e aiuti umanitari in generale e molti leader mondiali fra cui anche lo stesso Biden hanno accusato di nuovo il governo israeliano di non prestare sufficiente attenzione agli aiuti umanitari né ai civili palestinesi mentre si stanno moltiplicando a livello globale le campagne di boicottaggio di prodotti israeliani e cose di questo genere vediamo se questa pressione crescente assieme anche al malcontento interno di cui parlavamo qualche giorno fa con le grandissime manifestazioni che si stanno moltiplicando anche queste in Israele in varie città di Israele sortiranno qualche effetto in chiusura di questa notizia vi do così un piccolo consiglio di lettura perché ricordate qualche giorno fa ci chiedevamo in queste rassegne ma cosa possiamo fare noi ecco due giorni fa su Italia che cambia abbiamo pubblicato un articolo che è un'intervista molto interessante fatta da Fabrizio Corgnati a Natalia Re che è presidente del movimento italiano per la gentilezza e c'entra anche con i conflitti sempre a proposito di appunto avere cercare delle attitudini che siano non violente è un movimento che in realtà è un movimento globale questo per la gentilezza che professa l'utilizzo della gentilezza come strumento di risoluzione di conflitti e di convivenza pacifica ed è interessante perché vi ammetto che ero un po' prevenuto quando ho letto il titolo dell'articolo perché sono un po' prevenuto verso la gentilezza sono un po' scettico perché la mia idea di gentilezza è di qualcosa che è un po' superficiale che magari ignora i conflitti profondi nel nome così di una forma che vada bene sia di pacifica convivenza e invece l'idea di gentilezza che emerge dall'intervista è molto più interessante di quanto mi aspettassi e somiglia molto a quella di non violenza vi leggo un estratto poi vi lascio come sempre sotto fonti articoli il link per leggervi l'intervista completa sgombriamo il campo dalle confusioni precisa re gentilezza non significa cortesia educazione e buone maniere non è ascetismo né misticismo è un atto molto più profondo di responsabilità individuale e collettiva parte dalla costruzione del nostro equilibrio per poi diventare allenamento all'armonia e al rispetto io mi sento molto ottimista al riguardo nonostante questo sia un momento storico di grandi derive credo fermamente che la nostra società possa ritrovare nella gentilezza sia la bellezza che lo stimolo al cambiamento perché essere gentili può battere barriere stereotipi tabù falsi miti più della forza fisica e ancora continua è un antidoto a tutti i conflitti da quelli enormi della geopolitica a quelli microscopici della vita di ogni giorno quando ci scontriamo con chi la pensa diversamente da noi per strada o dietro a uno schermo senza volersi imporre sugli altri ma aprendosi a loro non si tratta di un'invocazione al martirio cioè di rinuncia alle proprie idee o necessità ma di accettazione della differenza comprensione che essa può nutrire anche la nostra identità individuale ieri mattina c'è stato un terremoto potentissimo a largo di Taiwan il più potente degli ultimi 25 anni nell'isola di magnitudo 7.4 Taiwan vi do un minimo di contesto è quello stato insulare che si trova nell'oceano pacifico a circa 180 km di distanza dalle coste della Cina è una nazione autonoma ma con un suo parlamento un suo sistema democratico ma sulla quale la Cina per questioni di tipo storico rivendica la sovranità ed è uno di quei punti caldi a livello globale perché Taiwan è anche il principale produttore mondiale di microchip e quindi anche gli Stati Uniti sono particolarmente interessati a difendere la libertà e la democrazia di Taiwan che intendiamoci è una roba giusta e sacrosanta però ecco lì forse è un filino più giusta e sacrosanta che altrove comunque tornando al terremoto scrive il post che l'epicentro del terremoto è stato rilevato circa 18 km a sud della città di Hualien ed è avvenuto alle 7.58 locali per quel che sappiamo fin qui alcuni edifici sono crollati almeno 9 persone sono morte e ci sono più di 800 feriti in tutto secondo le prime informazioni gli edifici crollati sarebbero almeno 26 più della metà dei quali a Hualien e decine di persone sono ancora intrappolate sotto le macerie racconta il Corriere che delle 120 persone intrappolate quasi 80 sono bloccate nei tunnel poi ci sarebbero 70 operai scusate intrappolati in due cavi nella contea di Hualien non si capisce bene perché i conti non tornano perché 70 più 80 fa 150 però vabbè insomma più o meno i numeri sono comunque questi a spanne oltre a loro ci sarebbero altre 50 persone disperse in 4 minibus che viaggiavano dal centro di Hualien al vicino parco nazionale di Tauroco al momento poi ci sono più di 87.000 persone senza elettricità insomma è una situazione molto complicata anche se devo dire vista l'entità del sisma i numeri delle vittime sono anche abbastanza limitati per quanto potrebbero probabilmente crescere nelle prossime ore in tutto ciò ed è un po' anche il motivo per cui vi ho fatto quella premessa di contesto all'inizio è arrivata pronta l'offerta di aiuto da parte del governo cinese una portavoce dell'ufficio per gli affari di Taiwan del governo ha espresso la vicinanza del paese e ha detto che presteremo molta attenzione al disastro e alle situazioni successive e saremo disposti a fornire assistenza in caso di catastrofe e come sempre mi chiedo un po' in queste occasioni chissà se per spirito di solidarietà o per iniziare allungare un po' la propria sfera di influenza perché abbiamo visto più volte durante la pandemia che questi due aspetti possono essere pericolosamente intrecciati sicuramente ci sarà da tenere gli occhi aperti e da continuare a raccontare sia insomma l'evolversi di questa tragica vicenda di questo cataclisma ma anche poi come magari la Cina proverà ad aiutare Taiwan e se proverà o meno a inserirci ecco qualche doppio fine altro caso molto caldo di questi giorni è il cosiddetto Pfizergate che coinvolge niente di meno che la presidente della commissione europea Ursula von der Leyen come racconta fra gli altri il sole 24 ore riprendendo però a sua volta un'indagine di Politico il magazine americano la procura europea sta indagando su accuse di presunti illeciti penali in relazione ai negoziati sui vaccini fra la presidente della commissione europea Ursula von der Leyen e l'amministratore delegato di Pfizer Albert Burla l'indagine originariamente era stata aperta dalle autorità giudiziarie belge nella città di Liegi dopo una denuncia presentata all'inizio del 2023 da Friedrich Baldan alla quale si era aggiunta poi le altre due denunce dei governi ungherese e polacco comunque vi ricapitolo anche qui brevemente la vicenda siamo nel 2021 e von der Leyen annuncia un accordo fra commissione e la casa farmaceutica Pfizer per l'acquisto di un quantitativo massiccio di vaccini in un accordo dal valore di circa 20 miliardi di euro accordo che viene inizialmente presentato come un grande successo negoziale perché era il periodo in cui si trovavano difficilmente i vaccini e quindi il fatto che l'Europa se ne fosse accaparrati tanti era stato appunto raccontato come un grosso successo della stessa presidente von der Leyen ma col passare del tempo l'enorme quantità di vaccini acquistati a partire da allora ha iniziato a sollevare perplessità nei giornali e nell'opinione pubblica con politico che ha rivelato alla fine dello scorso anno che c'erano almeno 4 miliardi di euro di dosi non utilizzate ora già nel 2022 la procura europea aveva annunciato che stava esaminando così in linea generale l'approvvigionamento di vaccini da parte dell'Unione Europea poi l'anno successivo è arrivata la denuncia di Balden che il sole definisce un lobbista belga di 36 anni con legami con il gruppo Novavax Bonsan che appunto presenta una denuncia in Belgio in relazione al ruolo avuto da von der Leyen nelle trattative sui vaccini con Pfizer per quelli che sostiene fossero atti di interferenza in funzioni pubbliche distruzione di sms corruzione e conflitto di interessi insomma secondo Balden von der Leyen avrebbe fatto accordi poco chiari e non nell'interesse pubblico e per di più avrebbe distrutto gli sms che avrebbero testimoniato questi accordi gli sms in questione erano quelli di un presunto scambio di messaggi fra von der Leyen e il capo della Pfizer Albert Burla rivelato dal New York Times e che faceva riferimento al periodo precedente al principale accordo fra Unione Europea e Pfizer sui vaccini al culmine della pandemia di Covid-19 questa vicenda questo scambio di messaggi presunti e questa faccenda poco chiara legata all'accordo fra Commissione Europea e Pfizer prende presto il nome sui giornali di Pfizer Ben presto si uniscono alle denunce appunto di Balden anche due governi l'Ungheria quello dell'Ungheria guidata da Viktor Orban che è un fermo oppositore di von der Leyen che presenta una denuncia molto simile e lo stesso fa la Polonia lo scorso novembre denuncia che in questo caso però sarebbe stata ritirata a quanto pare dopo l'elezione del nuovo premier europeista Tusk a dicembre ovviamente quando si tratta di governi è difficile poi distinguere l'aspetto politico da quello giudiziario e i motivi che stanno dietro a certe mosse hanno origini e ripercussioni che sono ovviamente politiche comunque anche il New York Times che appunto per primo aveva sollevato la vicenda avvia a sua volta una causa parallela contro la Commissione dopo che questa si era rifiutata di rivelare il contenuto dei messaggi in seguito a una richiesta formale ufficiale di accesso ai documenti da parte del giornale e questa è un po' la situazione fin qui adesso la questione sale ulteriormente di livello perché a prendere in mano le indagini sono stati appunto gli investigatori della procura europea il che significa sottoporre a ulteriore esame il ruolo della presidente Ursula von der Leyen all'interno di questo mega accordo sui vaccini al momento la Commissione si è sempre rifiutata di rivelare il contenuto degli sms e persino di confermarne l'esistenza alcuni oppositori politici hanno cercato di fare pressione sulla Commissione affinché discutesse il caso ma von der Leyen ha sempre evitato di affrontarlo vedremo però adesso che cosa emerge dagli atti giudiziari e dalle inchieste che sarà molto interessante seguire il 31 marzo sono svolte le elezioni locali in Turchia e in Kurdistan come vi abbiamo raccontato pochi giorni fa molti giornali sono soffermati sulla vittoria del partito repubblicano in molti comuni e sulla sconfitta di Erdogan soprattutto a Istanbul e ad Ankara c'è però un altro dato forse meno significativo a livello macroscopico e internazionale ma comunque molto molto importante ovvero che il partito per l'uguaglianza e la democrazia dei popoli che è un partito di sinistra turco e kurdo che è al momento il principale punto di riferimento per i kurdi in Turchia ha eletto ben 81 sindaci ed è di fatto la terza forza politica del paese che è un risultato importantissimo salutato come straordinario da vari esponenti kurdi ma che non è esente da rischi adesso infatti come riporta un appello di Yimals Orkan direttore dell'ufficio di informazione del Kurdistan in Italia su presenza ad appena due giorni dalle elezioni il sindaco eletto di Van che è uno di questi comuni in cui il partito dem ha vinto è stato dichiarato ineleggibile da parte del governo turco e al suo posto è stato dichiarato vincitore il candidato del partito AKP di Erdogan questa manovra è un chiaro segnale della volontà da parte del governo turco di calpestare diritti e le volontà del popolo kurdo scrive appunto il portavoce che racconta anche come il governo turco non è nuovo a queste pratiche 48 dei 65 sindaci del partito democratico dei popoli eletti nel 2019 sono stati sostituiti con dei fiduciari legati a Erdogan l'articolo quindi si conclude con un appello vero e proprio che vi riporto in questo momento è importante sostenere il popolo kurdo che sta manifestando in tutto il Kurdistan a difesa dei propri diritti democratici per questo motivo facciamo appello a tutti perché contattino nei propri territori i rappresentanti dei comuni e di tutte le istituzioni locali chiedendo loro di prendere posizione su questa vicenda inaccettabile prima di chiudere vi segnalo a voi che siete arrivati fin qui e che quindi siete fra gli ascoltatori e ascoltatrici più motivati di un mio assegno un evento che si terrà questo sabato a Milano per discutere di clima in maniera aperta e in ascolto profondo dell'altro accogliendo tutti i punti di vista sotto fonti articoli trovate una mia intervista a due degli organizzatori e si tratta davvero di un evento super interessante perché sarà pensate probabilmente il primo open forum dedicato al clima in Italia ed è un open forum è uno strumento appunto di basato su la metodologia del process work quindi è una roba non so come spiegarvela in poche parole però veramente si basa sull'idea di costruire lavorare sulle relazioni fra persone e aprire la possibilità che succedano cose nuove e punti di vista diversi si mescolino e che alla fine insomma ci si riesca ad ascoltare veramente vi lascio appunto l'articolo se volete approfondire mi raccomando se volete partecipare cosa che vi consiglio caldamente registratevi prima in chiusura passo la parola a Emanuela Sabidussi perché ieri è uscita la prima se non la prima la quinta la puntata mensile di marzo Dio non mi rassegno Liguria con il commento delle notizie Liguri più interessanti del mese a cura appunto della nostra Emanuela Sabidussi quindi a te la parola Emanuela e raccontaci un po' di che cosa ci hai parlato in questa nuova puntata ciao Andrea buongiorno a tutti e tutte eccoci giunti alla quinta puntata della rassegna stampa commentata da parte della redazione di Liguria che cambia apriamo questa nuova puntata parlandovi di nuovo del tema del rigassificatore di Vado Ligure per nuovi risvolti della faccenda legata a ricorsi all'altar Ligure ma anche ad un avvenimento avvenuto a Baltimora che in un qualche modo dà nuovi e sospettati in questo caso elementi per rivalutare il progetto ma non solo come sempre ci sono tanti temi di cui vi parliamo tra cui la militarizzazione che sta aumentando nella città di Ventimiglia ma anche degli nuovi studi e ricerche legate alle aree boschive della Liguria su cui facciamo qualche riflessione aggiuntiva alla parte numerica e parliamo anche di comunità energetiche rinnovabili con appunto l'avvento di un evento che c'è stato in Liguria e di un bando vinto proprio nella provincia di Sabona per una nuova comunità energetica e parliamo appunto della diffusione di queste di queste organizzazioni che si stanno sempre più allargando ed espandendo qui nella nostra regione non sono buon ascolto e buona giornata a tutti e tutte ciao bene grazie Emanuela anche la puntata di I nomi da segno Liguria la trovate sotto fonti articoli sulla pagina della segna stampa e della cambia.org io direi che noi ci possiamo salutare qua ci rivediamo domani mattina sempre a partire dalle 8 sui canali youtube sulle principali piattaforme di podcasting dunque sulla pagina della segna stampa pagina del cambia.org voi mi raccomando state bene fate i bravi e ricordatevi che chi si rassegna è perduto grazie a tutti i dati grazie a tutti i dati